tanti mi dicono ma poi cara che fai le ricette ragazzi le mangio che volevi fare cioè secondo voi che ci posso fare? butto? no ce le mangiamo no? e oggi continuiamo con la serie delle ricette che sono state più viste sui social questa ricetta che facciamo oggi tra facebook, tiktok e instagram ha raggiunto più di 10 milioni di visual una cosa pazzesca che cos'è questa ricetta che ha suscitato tanti interessi? semplicemente i sofficini perché? perché so praticamente talmente semplici da farli ne compriamo a chi è che non piacciono i sofficini? a tutti pure a me mi piacciono tantissimo farli è molto semplice, economico quindi è una cosa che ha appassionato tanti ed è stata una delle ricette più fatte e più viste di tutte quelle che ho fatto io pensate voi, ed è una cosa bella secondo me una cosa bella lo sapete perché? perché fare queste ricette e avvicinare la gente alla cucina anche con queste ricette è una bella soddisfazione perché potrei fare duemila cose, cottura delle carni, pesce, quello e quell'altro ma molti non si avvicinerebbero alla cucina perché la troverebbero una cosa complicata non hanno le basi invece fargli vedere come i prodotti di oggi che sono al supermercato li puoi rifare a casa? ovvio, non so, uguali magari li fai pure più buoni, non è detto però è una cosa bella perché tanti ci provano anche chi non ha mai cucinato anche chi ha fatto pochissimo cucina si mette là e dice fammi provare a fare questa ricetta quindi oggi la voglio riproporre su youtube perché su youtube non l'ho fatta la voglio fare con più calma in vari passaggi che poi sono quelli che avete visto però magari si capisce ancora meglio come viene sta ricetta e niente, quindi una mola a favore allora guardate raga, è talmente semplice che serve questo pentolino un pentolino che ce l'hai da casa comunque sia un pentolino 800 ml di latte 800 ml di latte una noce di buro intorno ai 20-25 grammi va benissimo e 400 grammi di farina 0,0 facile, facile semplice, semplice quindi andamola a fa' e vedete che è facilissimo allora mettiamo a scaldare nel pentolino 800 ml di latte abbiamo detto ok? dopo che abbiamo messo il latte dobbiamo aspettare che il latte bolli ok? intanto ci mettiamo questa noce di buro quando bollirà abbassiamo il gas e ci butteremo la farina quindi aspettiamo che inizi a bollire e vi faccio vedere questo passaggio sta iniziando a bollire quindi che faccio? abbasso fiamma proprio al minimo ok? e ci vado a mettere la farina 400 grammi di farina 0,0 e li vado a mettere tutti insieme senza problemi così e vado a girare semplicemente con una frusta vedete ragazzi con un attimo si è formato un impasto che andremo a lavorare con le mani adesso basta togliamolo dal fuoco una volta pronto lo lasciamo freddare per circa 8-10 minuti vedete voi lasciate a temperatura ambiente e lo lasciamo freddare e poi subito dopo lo andiamo a lavorare con le mani questo già si vede che è uno spettacolo allora l'impasto se è freddato freddato pure se è un po' tiepito e se volete farlo fredda prima mettetelo pure al congelatore 5 minuti e vedrete che se si fredda subito quindi senza problemi senza fosse troppi problemi allora prima di impastarlo io ci metto un po' di sale ok? a piacere ovviamente e lo metto sul tavolo mettiamo sul tavolo e lo andiamo a lavorare con le mani facile facile questo secondo me è sempre ritornando al discorso di una volta sempre ritornando al discorso che io faccio sempre allora va avvicinare i ragazzini questo qua io lo dovete fare a loro capito? perché è una cosa allora i sofficini gli piacciono è come quando nonna ci faceva fare che ne so i biscottini a noi o i ciambelli perché? ci piaceva perché poi se li mangiavamo e li facciamo noi quindi stessa cosa provate provate a farglielo far loro capito? se divertono apprezzano e intanto si imparano pure a fare qualcosa più che altro vedono che quello che sta al supermercato si può rifare anche a casa metteteci la farina tranquillamente quando vedete che questo è già quasi pronto eh ora lavoro un altro po' è perfetto quindi ragazzi se state a vedere ci mettete veramente pochi altro consiglio questo qua un bel impasso ci viene ci vengono un bel po' dei sofficini eh quindi poca spesa tanta resa e secondo me quando vi mettete a farli congelate ve li fate ve li impanate e li mettete al congelatore così a sera quando non c'avete niente quando non c'avete niente avete fatto tardi vi piate il sofficino e ve lo maniate tanto è come quello congelato lo piate lo cucete ci mette un attimo allora a posto guardate ok non si appiccica alle mani così è perfetto adesso questo impasto ce lo andiamo a stendere col mattarello semplicemente col mattarello mettiamo un po' di farina ce lo stendiamo e ci andiamo a ricavare i sofficini me lo divido in due vanetti se no avrebbe una cosa troppo grande ok ce lo dividiamo sempre sempre un po' di farina sul piano di lavoro un po' ce la mettiamo sopra e andiamo a stendere pure che si imparano a usare mattarello no? capito? piano piano si divertono cioè secondo me è una cosa che la passione capito? perché stanno a fare una cosa che poi se mangiano e dicono i bambini ho fatto i sofficini purtroppo poi la cucina è così ok una volta che l'abbiamo steso bene uno spessore di mezzo centimetro ragazzi uno spessore di mezzo centimetro ce l'avete un coppapassa ce l'avete anche in coperchio quello che vi pare questo è 5 centimetri eh e me vado a ricavare tutti i cerchi così ok con lo scarto lo rimpassiamo e ci rifacciamo gli altri sofficini ok lo rimpassiamo lo stendiamo e ci facciamo gli altri sofficini quindi scarto 0 allora ma io intanto noi ci facciamo questi se no la ricetta diventa lunghissima ecco qua ci leviamo lo scarto che poi mi arriva da impastare perché che te pensi questi poi io mi mangio mi mangio io tatti mi dicono ma poi che fai le ricette ragazzi le mangio che volevi fare cioè secondo voi che ci posso fare butto no ce le mangiamo no eccole qua questi sono i nostri sofficini allora adesso ce li mettiamo bene come li facciamo questi sofficini allora ragazzi i sofficini i farciti come vi piacciono di più a voi ok io per fare una cosa veloce è più che altro perché gli piacciono ai ragazzini che mi chiedono sempre li faccio addirittura ci metto sottiletta e prosciutto cotto sottiletta cremosa che si trova al supermercato e prosciutto cotto quindi poi li potete fare a pizzaiola li potete fare con le verdure cioè potete sbizzare come vi fare a voi con i gusti che vi fare a voi non è che c'è c'è una legge che impone come farcili quindi adesso semplicemente eccoli qua io mi ci vado a mettere guarda mi ci vado a mettere prosciutto cotto come dico sempre la qualità poi la decidete voi quella che costa tanto quella che costa poco ok pezzettino così e andiamo a chiudere semplicemente così sigillate bene i bordi questo solo dovete stare attento eccolo qua eccolo ragazzi guardate il nostro bellissimo sofficino sarà uno spettacolo per farvi capire quanti ce ne vengono allora guardate questi sono tre tre sei sono nove ok ma guardate ancora quanto in passo ok quindi ce ne vengono io penso trenta trentacinque ce ne vengono dei sofficini quindi con quell'impasto con quella pochissima materia prima che avete visto con quegli ingredienti ci vengono tantissimi sofficini e sofficini adesso in supermercato costano tantissimo quindi fatevene da soli ce li andiamo a impanare ok quindi mo io sto a sbatte tre uova ok quindi uova e panglattato solamente uova e panglattato le uova sono pronte il panglattato già è pronto mi vado a metta a scaldare l'olio ok perché tanto questi qua ci vuole un attimo mi metto a scaldare un po' d'olio e mi vado a impanare questi qua semplicemente uovo facciamoli bagnare bene e panglattato che bomette questo con quello che compri tutti belli finiti sono uguali raga praticamente sono uguali fidatevi identici vi ripeto faceteli come vi pare la panatura fatela col panglattato che vi pare io ci ho messo questo chiaro perché io di solito ne uso uno dorato però tutti mi incominciano a dire ne hai preso ma si trova ormai in tutti i supermercati e la prossima volta vi dico che panglattato potete usare comunque sia questo è semplice un panglattato semplice un sofficino semplice andiamola a cuocere allora li possiamo cuocere in olio 170 gradi fino a doratura perché questi poi si cuociono molto velocemente o se no in forno 180 gradi 10 minuti ok facile facile andiamo a cuocerli continuiamo lì a friggere tutti quanti me ne mangio pure uno tanta roba tanta roba i soffici eccole qua ovviamente pure chi ha la famosissima friggirice ad aria li potete cuocere in friggirice ad aria sempre la stessa temperatura 180 gradi 10 minuti poi se ci vuole un po' più di tempo lo vedete fate sta un po' di più eccoli qua questi sono i famosissimi sofficini da più di 10 milioni di visuale e ci hanno ragione oppure cioè praticamente questo l'hanno visto 10 milioni di persone perché perché è una cosa semplice da fare è una cosa buona che ci piace a tutti quanti una sera non fate cena fate solo sofficini di tutti i tipi di tutti i gusti in poco tempo pochissima spesa come avete visto e vi fate una bella mangiata è anche genuina perché avete visto c'è se è la farina la noce del burro quindi niente che fa male i prodotti come farcili li scegliete voi quindi mo me lo vado pure a assaggiare eccolo qua guardate guardate che bello allora provate a farsi i sofficini e poi meti ideale ci avevi ragione sono uguali sono uguali perché ingredienti sono quelli e sono buonissimi io spero veramente che li fate tutti quanti ok perché l'obiettivo mio è quello che rifate le ricette che vi propongo provatela a fa scrivetemi nei commenti come vi è venuto ci vediamo alla prossima ricetta sceglierò tra quelle che sono andate più virali perché vedo che vi piacciono tante adesso magnatevi pure questi sofficini ciao voglio bene muah